Lavori alla rete elettrica e lavori di realizzazione del nuovo manto stradale, nuove ordinanze per la viabilità a Torre del Greco. In considerazione della nota con la quale il responsabile tecnico della società Soige ha chiesto le missioni di apposita ordinanza di divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata per lavori di realizzazione del nuovo manto stradale, il dirigente al nono settore di polizia locale e protezione civile, comandante Salvatore Visone, ha predisposto con apposita ordinanza dirigenziale del 24 giugno il seguente dispositivo in viabilità. In via Monsignor Felice Romano dal civico 27 bis al civico 1A è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata i giorni 28, 29 e 30 giugno dall'ore 7 all'ore 18 e 30. In considerazione invece della nota con la quale il responsabile tecnico della E-Distribuzioni ha chiesto le missioni di apposita ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata con orario H24 per lavori alla rete elettrica, il dirigente al nono settore di polizia locale e protezione civile, comandante Salvatore Visone, ha predisposto con apposita ordinanza dirigenziale del 24 giugno 2022 il seguente dispositivo di viabilità. In via della Repubblica, Piazza della Repubblica, Viale Ugheria, fino ingresso ai distinti Campo Liguri, Cabina Enel, Angolo Via dello Sport, è previsto il vieto di sosta con rimozione forzata H24 dal giorno 27 giugno al giorno 29 giugno 2022.